buongiorno oggi celebriamo la memoria di santa elisabetta di ungheria giovanissima santa che a 25 anni ha raggiunto in cielo il suo signore dopo aver vissuto come sposa come vedova e come consacrata ai poveri una vita tutta di carità solo 25 anni basta poco per rispondere con totale donazione al signore abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza di una vita donata nella sua essenzialità la parola di dio al capitolo 19 di luca i versetti dall 11 al 28 ci parla infatti dei doni che il signore consegna a ciascuno di noi e che sono utili e necessari per vivere una vita di responsabilità e lo fa proprio rispondendo alla richiesta di coloro che pensano che il regno di dio venga presto manifestandosi da un momento all'altro gesù con la parabola del signore che se ne va per ricevere un titolo di re lontano e consegna una moneta a ciascuno dei suoi dieci servi richiama la responsabilità in questa vita sollecita a non essere troppo angosciati e preoccupati di quando e di dove verrà l'incontro definitivo con il regno e di vivere piuttosto ogni giorno concentrati sul dono ricevuto a volte noi potremmo lamentarci perché pensiamo che ci sarebbe necessità di ben più altri doni di tante altre risorse di chissà quale altra vita per rispondere alla chiamata di dio la parabola invece così come la testimonianza di santa elisabetta ci conferma che l'importante è trafficare al meglio quello che abbiamo ricevuto senza perdere troppe energie a piangere sul bicchiere mezzo vuoto e di fatto la bellezza della nostra esistenza vissuta nella logica dell'amore e la possibilità di essere moltiplicatori dei doni ricevuti i quali danno felicità nella misura in cui non sono trattenuti sotterrati sottoterra come potremmo pensare che sia utile fare o nascosti nel fazzoletto per usare l'immagine che ritroviamo nella parabola dietro questa scelta di trafficare con responsabilità i doni anziché rimanere rassegnati nella nostra facile autoreferenzialità c'è la consapevolezza che dio non è un padrone che giudica non è un signore che chiede conto con cattiveria ma è soprattutto e essenzialmente un padre d'amore contento se possiamo trasformare come lui i doni in doni donati e in questo modo moltiplicare l'amore nel mondo buona giornata trafficando con generosità il dono che abbiamo ricevuto